E' messi contro di me, con una marea di bugie E io li cado da un ottimo basso real su Instagram e su tutti i social Cado da un ottimo basso, real Io non ho rovinato il vostro lavoro, voi siete rovinati da soli E se l'ho visto abbastanza video vostri a farmi un'idea Cazzo che grande! Nel mio video c'è il tag ironia Il Cerbero si rivela di nuovo il terzo mondo dell'intelletto Non ho mai visto tre persone di merda così tutta la mia vita Il genere maschile ha un problema di aggressività Ci piscio sopra a vostra madre Di esaltazione della violenza, di cultura dello stupro Amicina! Menorina! Sono Rosario Riccardo, è Riccardo Rosario su Instagram Trattino un basso, dove in pratica mi occupo da oltre sette anni Rimato in Italia da oltre sette anni in cui si è stato i guadagni Di social media manager Non sarò un clausciare Né tanto me non deve Perché ogni giorno guardo Io cercherò Il gerbero P-p-podcast Cerbero P-p-podcast Marla nibdi lì c'è ed è bete Lei mur, la rana 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 Cerbero P-p-podcast bella rega a volte se va avanti solo col cognome e se va troppo spesso questo vale per me vale pure per altri ma ma secondo me è una gran cazzata perché se la persona è valida e meritevole merita la persona no quello che porta dietro il cognome ognuno sarà i cazzi sua da vita quindi non serve un cazzo a cognomi che casa monica quello che serve niente se si vuole bene la persona se vuole bene per nome e quello la persona se valida questo questo in passato ho fatto pure io vi dico la verità sta cazzata ciò che non faccio più da anni dai rega a scena musica ma che stai a fa ricordate che squali stanno arrivare e benvenuti in questa nuova trasmissione ciao ragazzi abbiamo qui un ospite internazionale presentiamolo a tutti nicolò anche detto razzie come stai benvenuto bella bella rega tutto bene questo bell'abbigliamento da maranza milanese sì a voi infatti sei qui per interpretare un maranza oggi mi sentivo in questo mood regalato da mia sorella mi ha detto chi è va pietelo il cappelletto di versate la is possiamo vedere tutti e tre i climi che troviamo infatti porco tu è assurdo io che non ho mai freddo davide moderato e lui col cappotto da maranza sui navigli allora presentiamo un attimo questo ragazzotto molti sicuramente ti conosceranno già giustamente vedo gente si chiama chi è ma chi è ma chi cazzo hanno ragione nel senso però ho visto uno che ha scritto il titolo di una canzone tra l'altro ma di quelle elettronica falcon punch che tanto abbiamo fra i contenuti audio video addirittura quella è una delle mie preferite allora l'altra sera ero qua a casa con nicolò insomma ci siamo messi un po' a chiacchierare mi ha raccontato varie aneddoti interessantissime della sua carriera musicale che inizia all'età di 16 anni 15 anni ok dai raccontaci anche perché in questa strada ci sarà anche dei brevan quindi è interessante secondo me capire le varie evoluzioni la tappa a Sanremo la tappa a Arcora allora tra l'altro vi dico anche questo per me Nicolò è stato fondamentale per il mio percorso musicale lui sa bene perché non soltanto per quello ma perché diciamo che il primo primo coraggio per fare i primi featuring da cantante solista nell'elettronica me l'hai dato tu insomma hai detto butta che facciamo sta cosa abbiamo fatto le prime collaborazioni nell'elettronica l'ho fatta con te infatti c'ho quella con Savant la prima che abbiamo fatto era Savant quella che soltanto all'inizio era soltanto con te poi diventò anche con Savant dopo il remix è stata una bella svolta Savant stava super hype in quel periodo ma poi ce l'ho anche dopo ce la sentiamo comunque per capire praticamente per introdurre il personaggio ancora un po' di più allora Nicolò è una persona lui so che non gli piace questa definizione ma uno che ogni cosa che ha toccato nella sua carriera è stata una sorta di remida l'ha trasformata in oro salvo poi in certo punto rompese il cazzo e passare alla cosa dopo e tipo autosabotarsi e tipo buttare tutto al cesso perché gli andava perché voleva passare al progetto successivo però diciamo che tutte le cose che hai fatto c'è da dire che sei riuscito a portarle almeno a un certo livello insomma renderle professionali come come è cominciato come ti hai approcciato beh niente ho iniziato a suonare ma fate un po' più avanti con sta sedia ecco fatti sai ma io mi metto voce fuori campo tanto mi hai sentito uguale via qua eh ma io vi sono qua avvicinati no ma perché così è un disastro mettetevi un po' più bravo mettete un po' più a destra con la sedia oh perfetto però poi mi si stacca la cuffia eh no ma vicino io va bene dai siamo tutti ma è che sto riquadro così mo che taglia un po' più no no ma va bene dai io così almeno vedo se c'è pure qualche domanda in chat la voce perché siamo andati siamo andati in studio a recuperare il terzo pod mic questo qui ah ok e quindi non c'è il braccio meccanico allora dicevamo vai Nicolò dicevamo e riassuntone proprio stretto inizio a suonare a 15-16 anni anzi a 12 anni poi inizio con le prime band punk hardcore metal come sa bene e suonare all'inizio chitarra ho iniziato come chitarrista però poi sono passato alla voce alla voce non pulita a urlare tipo scream come ben sappiamo abbiamo formato gli hopster last che per chi conoscesse il genere post hardcore metalcore quella scena là parla emo core emo core diciamo i matti tutti quelli col ciuffone sapete ma perché il pubblico dice cazzo è emo core immagino penso penso che la gente sappia qualcuno lo sa qui vedo che addirittura scrivono gli elia cioè la gente lo sa no ma ci sono parecchi cultori allora diciamo un paio di cose innanzitutto noi in quei tempi anche io avevo una band e noi ci inserivamo come diciamo nuovi arrivati in una scena musicale chiamata ai tempi romarcore romarcore che era ancora legata a dei vecchi codici l'artcore old school insomma c'erano dei gruppi di riferimento di gente che era molto più grande di noi che erano già over 30 anni e noi eravamo dai 16 ai 20 anni che si affacciano in questa scena non eravamo iper ben visti eravamo chiamati quelli corciuffo quelli frangette anche io avevo corciuffo ai tempi poi sei andato via e guarda quanto quanto compiacimento a parte tutto ho notato un po' di bollismo nei confronti dei brevan e mi piace tantissimo basta sta da paura ancora un pischello diciamo che ancora mi riporto bene te ancora meglio te quant'anni c'hai il momento 35 io 37 insomma diciamo che tu ancora meglio non si riportiamo dovrei essere un padre di famiglia ma invece cioè no sono ancora diciamo che sto del 97 non dell'87 dai pensamola così ti vendi così alle minorenni si facciamo così 97 23 aprile 1997 vabbè fatto sta che comunque tornando a noi ci affacciamo a questa scena la gente 35 30 vabbè ti credo perché guarda che fa strano uno ti ha scritto 37 pensavo 45 ma vaffanculo ma in realtà sembrate meno dai venimo a piare dove stai no ma lo so bene inutile mentre in questa scena si faceva un po' fatica all'inizio anzi la gente un po' c'eiterava pure quelli un po' più boomeroni del tempo succede che la musica soprattutto che facevate voi trova la svolta su myspace e lì è la prima cosa che che ti fa capire che offside last era un progetto che aveva un futuro primo social myspace era proprio sigo ti ricordi bene come andò Michele mi disse proprio lui Michele Longobardi tra l'altro mi disse mettite su myspace che là ci sono tutti i gruppi del genere emo core eccetera stiamo parlando del 2004 qua si si a voglia roba del 2004 2005 così ci siamo messi su myspace con gli offside last il progetto è cresciuto e da lì siamo riusciti anche a fare un tour in America c'avevamo 19 anni in che modo però è venuta diciamo questa questa conversione in concerti poi da myspace al concerto in America allora praticamente vabbè abbiamo fatto abbiamo iniziato a registrare i nostri primi brani fatto un primo EP che non aveva nulla da invidiare dai gruppi americani a parte esclusando quelli super big ma quelli a livello nostro nuovi stavamo a livello no si si diciamo quella roba lì no nel senso che tutto quel giro nostro era riuscito in qualche modo ad arrivare a quei livelli di produzione anche insomma c'è stavano gente che poi ha avuto un futuro l'emmezzo fra i produttori che abbiamo utilizzato a quei tempi lo stesso Marco Mantovani ma poi Danus che stesso Beccopore è diventato fortissimo a fare quel tipo di produzione quindi stavamo belli coperti e diciamo che il livello era già mondiale si è vero tu Simone esperienze con MySpace ne hai avute o non hai mai provato diciamo che quando ho iniziato a scoprire MySpace avevo 13 anni avevo appena iniziato a suonare e c'ho un bel ricordo in realtà poi è morto subito però c'ho un bel ricordo che mi ricordo che contattai una band che avevo visto su All Music e mi risposero solo questo ma non l'ho mai utilizzato per canzoni mie perché ero ancora troppo piccolo e non le facevo ancora e ti dico una cosa Simo ai tempi ti ricordi per chi già ci stava messo più in mezzo a sta logica di MySpace era proprio l'hub principale per mettere in comunicazione i musicisti cioè le band si mettevano d'accordo facevano i primi metodi per fare tour a quei tempi era contattarsi tramite MySpace e fare scambio date tu magari te contattai con una band francese tu gli organizzavi una data a loro qua a Roma e loro te facevano suonare a Parigi e quelli sono stati i primi tour che se facevano quelle band esatto senza guadagnare euro dobbiamo mettere specificare questa cosa noi abbiamo fatto il primo tour in America mi ricordo che l'avevo rimediato io scrivendo a un'agenzia booking americana che faceva appunto questi tour qua di queste band qua e il deal era 100 dollari a data per tutta la band ok e ci avevamo circa 15 dollari al giorno per tutta la band per mangiare infatti mangiavamo solo panini da neuro del mcdonald per farvi capire la situazione e abbiamo fatto sto tour nel furgone insieme a sti americani tutti ammucchiati insieme così potevamo sticcare la benzina no? perché non c'avamo una lira fondamentalmente che poi in realtà la cosa che fa ride è che non eravamo ragazzi senza una lira veramente cioè poveri comunque veniamo da famiglie normali nel senso due soldi ce l'avevamo capito comunque però noi l'atteggiamento da che dovevi fare tour proprio punk se ricercavo quell'attitudine da panca bestia se voleva vivere nel furgone sì esatto io sono finito all'ospedale in America c'è una certa 40 de febbre tipo perché dormivamo per terra a casa della gente per farvi capire ma te tu ricordi perché volevate spesarvi da soli sì esatto non esisteva che ade esattamente era quella la si sentiva pure così in quella maniera tu ti ricordi la band mia tu ti ricordi il bassista tu ricordi il bassista pazzo lo piccoletto non so ti ricordi senti gatti voglio raccontare sta scena perché secondo me i pischelli si tagliano in America una certa dopo lo show in Florida stavamo after party un po' di pischelle tutti i ventenni portiamo queste pischelle una certa stavamo in spiaggia di notte ok io mi giro e vedo il bassista di una delle band bassista attenzione che era un tizio un po' bassino capelli lunghi ricci che era Masedo no raga no senti che scena che limona con una il problema che dici quale cazzo è il problema che questo era completamente nudo con gli stivali te lo giuro frate e raga completamente nudo e ci aveva il cazzo più piccolo che io abbia mai visto nella vita te lo giuro raga ma tipo una roba tipo così e questa qua tipo mezza imbarazzata così che lo baciava e questo tipo tutto mezzo vabbè ma era per freddo poraccio no frate proprio il pisello fatto ma che cazzo cioè tu hai urlato così no raga ma era proprio una cosa da andare a dire ma che cazzo stai a fare ma che stai a ripiede un attimo ma stava un po' modificato stava un po' editato non lo so era incredibile era una scena nudo con gli stivali con sti capelli lunghi tutti ricci col cazzo più piccolo del mondo raga guinness e so quegli racconti che te porti a pezzo tutta la vita vuole che te scaldano il cuore ne parlavo l'altro giorno con gli altri ne parlavo l'altro giorno e diciamo ma raga ma vi ricordate sta cosa eclatante cioè nel senso e tutti cioè diciamo che sarebbe stato da andare lì in effetti e di oh ma che stai fatti ma te ripieni un attimo poi dici che cazzo te ero così freddo in cazzo gigante capito e sti cazzi li metti in nudo lo fai vedere ma quello era proprio vabbè ma è giusto così fuori da testa raga tutte le cose che se potete ricordare quel bel periodo se andavo a sonare tu eri in America cioè questa è l'unica cosa che c'è quello raccontato con il cazzetto che gli stivali perché secondo me la gente si sente male nel senso palese body shaving voraccio no vabbè cioè era eclatante nel senso tipo quando giochi a carcio da ragazzino in uno spogliatoio c'è sta quello là con il pene microscopico e tu ti dici ah c'hai capito come per uscire da stempass dei micropenni mi dispiace dirlo ma ero io no no venuti in Florida a quei tempi vedevo che non avevi seguito bene il discorso eh purtroppo magari dopo l'ha cresciuto che ne so sì sì ma che cazzo dopo sì ho fatto degli allenamenti ho comprato un marchigegno su internet quelli enlarge your penis io dico il pesetto che tu lo tengono sempre tirato ma quindi a Simo funzionano quegli annunci che tanto compaiono Simo diciamo è tutto lungo è lungo è sottile e affusolato tipo un gresino perché solo in lunghezza funzionano eh sì non in larghezza eh sì ogni tanto rivedo quegli annunci tipo allunga il tuo cazzo di ben 7 centimetri quindi funzionano sì 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 vada sarà una cazzata adesso è 8 centimetri senza 8 centimetri poteva diventare problematico porca troia ma invece quella roba che mi raccontasti tipo della doccia eh impossibile che sei stato tipo una settimana senza lavarti era un altro griego ah devo dire questa era un altro tour era? no quello stesso tour vai dici è certo così però è un po' un po' leerce come cosa ma a noi ci piace Davide comunque secondo me devi entrare nell'inquadratura eh eh ma non c'è un posto per poggiare il cosetto te potresti mettere in mezzo stare tipo così capito eh dai ma entra eh ma sto scomodissimo eh niente dopo c'è fuori campo vabbè tanto sto qua il corrispondente da Roma faccio così per le tab dai ok racconta facciato racconta racconta allora in tutto ciò tornando al tour sempre un'altra cosa incredibile che mi è rimasta impressa la gente dice vabbè ma che schifo sicuramente però dai famo che ho sta raccontando amici stretti non ce l'ho cioè nel senso era difficile trovare la doccia cose del genere perché oh capitava quando ci ospitavano no se potremmo lavarsi a casa dei americani a caso è successo che però per una settimana non abbiamo trovato nessun posto dove dormire abbiamo dormito per una settimana nel furgone o per terra dove capitava per strada e quindi non se facevamo la doccia era estate cioè nel senso era caldo era tipo maggio però capitavamo tipo in Texas che ne so 47 gradi capito all'ombra cose così e io andavo cioè tutti i giorni andavo a accesso capito come nel senso come tutti diciamo come giustamente sarebbe la cosa perfetta andare tutti i giorni eh sì ma pure tre volte al giorno perché capito a mangiare a merda esatto a merda tipo così e dopo una settimana trovavamo finalmente un posto dove se mi vado a fare la doccia la devo dire e poi mi vado a fare la doccia che pudore tutto fomentato così nel senso e mi passo la mano tra le chiappe per lavare il culo no nel senso sì vabbè anche meno specifico e mi se strappano i peli perché saranno tutti incrostati capito hai capito come per una settimana che non me lavavo per culo hai capito come quindi pensate che stiamo a parlare ma che sensazione hai provato cioè di dolore no 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 a parte quella dico cioè fare la doccia dopo una settimana hai goduto è stato bellissimo sì ma poi io devo sono malato e me lavo tre buoni per germofobili infatti abbiamo abbiamo davanti a noi una scatoletta con i cambi i cambi delle cuffiette perché loro stanno utilizzando la stessa cuffia cioè una cuffietta a testa abbiamo cambiato davanti a Nicolò il capuccio perché è proprio iperigienista tra l'altro come dicevi tu prima per tanti è una questione di attitudine io te ne dico un'altra quando noi andavamo spesso in Germania una volta Sasha il bassista nostro andiamo a prendere col furgone quindi lo conosci da tempo tu Sasha non Sasha ah ok andiamo a prendere sotto casa col furgone rigorosamente noleggiata la maggiore quindi era una remissione economica tremenda perché vi davamo 21 ore per arrivare la prima data e lui lo troviamo così e prende mette dentro il bus e mette dentro uno zainetto mi faccio guarda dopo una stantura una settimana ti sei scordato la valigia o alla pia mi fa no no io parto così in che senso così no no perché la cosa mi dice dovevo essere punk quindi ho deciso mi sopportato un paio di mutande solo e soltanto il cambio della maglietta personale lui partì una volta in tour con una maglietta tutta stracciata nera un paio di jeans un paio di jeans corti e una maglia perché questa era dell'inter de Bergkamp XXL lui era alto un metro e cinquantasei per suonare nell'ira di tutti perché io comprammo la roba mentre stavo là perché era una roba inguardabile lui era fissato doveva partire così ma la roba ma lo sai che a parte mi hanno detto che adesso ha ricominciato a suonare ho detto staffantura a Dubai ultimamente chissà e ogni volta che arriva in tour gli fanno tutto benvenuto Sasha esatto benvenuto Sasha ma lo sai che è il vero punk in realtà attualmente in Italia sdrumox allora sdrumox quando è venuto a dormire a casa mia la sera in cui è venuto poi al lupus scende da l'uber qui fuori con il suo giubbetto quello ormai mitologico solamente quello io faccio lo danie ma che ne sono zainetto una conca ma che te lo sei scoperto io ho fatto ma che te sei scoperto un treno un taxi guarda fermano un attimo il tassista tanto sta qua se vuoi scrivo dall'app fa no no io sto così ma cioè non aveva nulla solo il telefono il giubbetto il telefono numero 1 bisogna essere anche dal altro vogliamo contestualizzare sto periodo de' skrimaroli abbiamo innanzitutto una clip di hopstylast i primi anni 2000 sì sì a te piaceva sto genere 2008 dai fine anni 2000 a te piaceva sto genere simu? cioè sì diciamo di sì avevo un senso perché ai tempi eri più pure tempo mezzo emo rocchettaro io stavo più sul fronte metal ok quindi però avevo amici che suonavano in gruppi del genere e li andavo a sentire volentieri io ero truzzo tu eri più tipo Iron Maiden Megadeth Metallica Pantera ma se io stavo più nel mio mondo in realtà stavo pure Radiohead stavo più in quell'ambito un po' più così però sempre bazzicato mai mai disdegnato sentiamo questo è Nicola c'è pianto ok ma la tipo tipo sì brimmi d'horizon prima maniera noi ci abbiamo suonato col brimmi d'horizon è vero svariate volte abbiamo suonato allora i brimmi d'horizon li conosco cioè non personalmente da quando sono usciti poi siccome eravamo prima no prima ancora il primo inizio una roba di quattro pezzi proprio poi allora dei scappati da casa Oliver che si rotolava per terra un pazzito e poi io riuscii a rimediare il contatto di Oliver Sykes e di me di messenger e ci ha fatto una maglietta per gli Ops Elast lui ci ha fatto un disegno grafico sì grafico vabbè ho pagato ai tempi che erano tanti erano 150 euro tipo 1000 euro da adesso perché pure ai tempi loro cercavano business collaterali perché ancora non erano capito i brimmi d'horizon di adesso quindi facendo pure altri lavori certo e praticamente ci ha fatto sta maglietta gli piaceva me ne mandi una io l'ho stampata gliel'ho mandata e lui suonava in giro con la maglietta dell'Ops Elast e poi siamo finiti a suonarci in Svezia dove tra l'altro suoniamo pure tra due settimane a Gothenburg abbiamo suonato con i brimmi d'horizon in Svezia e poi a Rock Planet di Pinarella ok e com'è stata l'esperienza? beh sicuramente figo però non se siamo onculati onestamente cioè non è che sono andato lì a Dio mi hai merato come al solito no mi hai ambruttito stavo ancora tranquillo a Rosecco in quel periodo quindi non potevo fare risse strane ma poi c'è stata una specie c'è una gerarchia molto precisa a quei tempi fra band c'è stata una sorta di rispetto soprattutto band americane che magari percepì che hanno fatto qualcosa in più di te c'era proprio una non lo so c'era un codice particolare fra musicisti che era pure figo a parte quando c'è delle rivalità che poi soprattutto Roma per Roma c'è anche sabotava a vicenda le controdate i controconcetti quella era fatta un po' più del merda però c'è stata una sorta di rispetto insomma soprattutto quando andavi a suonare all'estero perché le sentivi insomma non a casa tua quindi eri sempre abbastanza rispettoso in questo periodo dal punto di vista economico come andava al di là di questo tour che ci hai detto dopo questo tour cosa avete fatto non c'avevamo una lira cioè io una certa cioè fondamentalmente io voglio volevo campare di musica da quando ero ragazzino da quando stavo da 11 anni davanti a TV che dicevo che bomba sai quel mondo così vedevo tutte le rockstar e c'era ho detto io da grande voglio fare musica devo campare di musica a 20 anni avevamo 20 anni eramo io mi sentivo già vecchio a 20 anni capito dicevo cazzo non sto ricco ancora com'è possibile però a 20 anni sei un bambino praticamente e non facevamo una lira nel senso che cioè facciamo i soldi che servivano per pagarsi le spese per andare a suonare pagarsi le magliette da vende capito com'è poi al massimo a fine tour te mettevi in tasca 100 euro a testa capito come quindi era una roba per passione ma poi quando sei in 5 ma di che stavo a fare tra l'altro l'altro giorno sono andato a vedere quanti soldi Oliver Sykes ci avesse Network no quella roba lì non so se è vero ma se parla dei 2 milioni cioè io mi aspettavo un cazzo tra Drop Dead e Brimmino c'è un armeno una ventina che poi sta a fare pure un sacco dei pezzi che ne so mashing anche sì esatto esatto però ha capito 2 milioni cioè nel senso praticamente uno sfero e basta c'è più soldi se rotti al culo per così tanto perché poi a quei tempi le band americane che stavano e inglesi che stavano in tour tutto l'anno ma veramente stanno tour tutto l'anno a noi c'è capitale capito con quello stile musicale si si distrugge le corde vocali poi dopo ha calato ti ricordi il periodo di scrivere infatti secondo me c'era tipo un patrimonio dei 100 milioni a Dubai ma è capace che i primi anni che erano percepiti più grossi quello che erano e mi ricordo che a quei tempi chi stava in tour tutto l'anno 200 300 date l'anno poi finivano tutti morti con le corde vocali perché se improvvisava cioè scream a quei tempi nera una tecnica ognuno faceva a modo suo e tanti cantanti grossi fra cui anche il cantante quello nero degli switch engage a un certo punto dopo i primi due anni e tour finirono afoni me l'avevi fatto sentire a me era una bestia era un mostro quella era forte era pure più tecniche fino a con 3 teafoni e andavano tutti da una tale melissa cross che era considerata tipo la guru dello screaming ma lo è ancora 50 anni ancora si si ancora oggi insegna che insegnava a urlare ai metallari cioè una roba una specie di sonia dei super 3 che ti insegnava perché poi le fattezze erano quelle e insegnava a urla ai metallaroni tatuati la roba pensi ai nipoti di stasignora quanto erano terrorizzati quando si incazzava capito tra l'altro comunque lo hai diventato apposta mi vado fortissimo si si porca droga poteri poteri molto forti mi ha buttato via infatti e quindi vabbè diciamo questa povertà è durata fino al fino a quando ho detto basta le capiscio ok devo fare qualcos'altro nella vita oppure qualcos'altro con la musica devo fare qualcos'altro nella musica cosa hai fatto ma poi tu calcola che quando stai con una band dei 5 ragazzini dei 20 anni pure della Dispoli capito quindi belli quattelli eravamo così nel senso è difficile guarda questa è la mia acqua è un macello cioè capito come quindi c'erano stress non indifferente da gestire quindi ho detto ad una certa rega ha fatto no rega io ne la faccio più mi dispiace ve la lasciava bene piscio me ne vado ok e ho fatto insieme un altro mio amico a me piaceva un sacco il pop punk sono ancora fan prima la prima cosa che hai fatto è stato subito Raziel manco ti ricordi la roba che hai fatto te chi stai scherzando prima di bocana al college già esisteva Raziel no no 100% no zì ma che stiamo andiamo a vedere le date no zì non esisteva Raziel esiste da quando c'ho 25 anni no bro fidati hai fatto lui lo dico io la prima roba che hai fatto che facevi che mixavi a studio da danus che fu prima brother no fratello quasi sicuro vabbè dopo vado a vedere Raziel è uscito nel 2012 ci fate un fact checking in chat grazie ti sfuggiarterò non date retto a Dave che insomma sei bevuto qualcosa no no ti sfuggiarterò 100% e vabbè abbiamo fatto sto gruppo pop punk con un mio amico pop punk però era pop punk figo capito americano chitarre roba cioè nel senso tipo blink era quello però il problema è che poi arrivata universal così posso dire posso essere non è che mi vergogno non è che un problema giustamente quelli ci hanno firmato per fare i sordi che ci hanno firmato perché che bello e ci hanno detto ragazzi tirate giuste chitarre elettriche fate un po' più roba in italiano e allora noi ci siamo ci siamo lasciati trasportare era il periodo quello Finley Lost Dari tutta quella roba TRL no e ci hanno firmato subito cioè noi se eravamo formati due mesi prima ci hanno firmato e poi quando vedi i contratti comunque con cifre interessanti io che c'avevo vent'anni ho detto oh dai nel senso ero contento ho detto ah finalmente mo campo de musica no progetto quindi no progetto ripartito da zero l'ente con voi due frontman esattamente mi ha preso una vagonata de merda da tutta la scena ancora perché giustamente mi dicevano questo è passato cantante screamer uno dei gruppi più fighi del genere post hardcore metalcore italiano a far cantante pop quindi giustamente tutti i soliti insulti come era arrivata questa proposta di cosa dell'universal perché noi registravamo con Daniele dei Vanilla Sky che al tempo erano belli hype stavano su Universal e lui ha fatto sentire la roba al manager che poi ci ha firmato al loro manager e ci ha firmato subito su Universal e lì sono partite le robe TRL cose eccetera fino a Sanremo fino a Sanremo cosa raccontaci quell'esperienza ti prego aspetta aspetta prima il primo grosso botto è la prima cosa a cui ti sei dovuto misurare completamente diversa proprio a livello di percezione musicale della gente fu TRL tu le sei trovato effettivamente in quel contesto la gente non so ricordano concerti in piazza a Milano oppure posti così con tutte queste ragazzine urlanti che lanciavano i cartelloni fatti col cartoncino e voi siete esplosi la prima cosa che fatti diventati grossi a TRL era Wannabe la cover delle Spice Girls abbiamo fatto la cover se si non la mette è fatta una cifaride c'è il video ma non fa ride nel senso perché è fatta bene ma se c'è pensi e l'analizzi è quello che fanno adesso vedete che fa adesso Diego Nasca cioè paro paro da lui facciamo vent'anni fa ma infatti mi hanno scritto il certo mi ricordavo i vaniglia sky fecero una cover di Umbrella di Rihanna andavano un sacco di moda queste cover fatte poi c'era sulla scia del punk of pop un'altra cover spammata da tutti era Apologize pure mi ricordo un sacco dei gruppi fecero la cover versione un po' più hard sentiamo un po' i Pantellas della musica pop diciamolo comunque se vai su google c'è proprio vabbè tutta un culo sta fuori dell'altro a no 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 oh no 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 all no oh oh it's oh oh Vabbè, 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 è un chiaro, è un bambino, è un bambino. Vabbè, Universale. Ma stiamo tutti via Cannone, passati via via Rotation su Antivine. Tutti patinati, proprio, prodotto perfetto, ragazzi. Però se prodotto internazionale però. Vabbè, Universale, Internazionale. Ma quanto scopavate quel periodo? Dicci la verità. In realtà, posso essere sincero? Poco? Io non sono mai stato un grande... Ma perché non t'amavo a te? Sì, io vedo, c'ho un sacco di amici rapper che stanno proprio fissati tutti i giorni, mi sono scopato questa, 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 questa... Fai a massimo, come te pavano? Forse perché loro sanno che senza la fama non scoperebbero, perché sono brutti in culo, non lo so probabilmente. A me non ci ho mai avuto questa cosa di, oddio, mi devo scopare tutte. Poi mi ero pure innamorato da una in quel periodo, quindi ero impazzito e vedevo solo lei. E in calcolo ho detto no a certe fighe, che ti dici, vabbè, ma che sei impazzito. Cioè non mi fregava niente, capito? Ero un po' sentimentale, vero Emo? Vabbè, no, è giusto così, capito. E quindi, niente, non abbiamo scopato tanto, nel senso, onestamente. Però, cioè nel senso, quanti anni ci avete avuto da Boom? Poco, come sai? No, siamo durati manco tipo due anni, perché poi io... Deve ore, potremmo definire. Sì, ma voluto, nel senso, saremmo potuti durare di più, ma io dopo un anno, vai in giro, ti fermano per strada, i ragazzini che urlano, eccetera. Poi ho capito, ovviamente, c'erano i miei fantasmi, perché comunque sia, lo sapevo che ero prima il cantante di un gruppo metalcore, rispettato, e poi ero finito a fare il pupazzetto, nel senso, perché dai, nel senso, io non sono mai stato il bravo ragazzo dei vent'anni messo sul palco, ciao bambini, allora cantiamo tutti insieme la canzone. Cioè, fondamentalmente, detto così, era un coatto della Dispo, lì, nasciuto, cresciuto in mezzo... Nasciuto, ho detto. Nasciuto! Cresciuto in mezzo ai punk, ai metallari, e quindi era quella la cosa mia. Quindi fa il finto bravo ragazzo, bello, e non era roba per me. Quindi dopo un anno e mezzo mi sono cominciato a prendere le crisi, ho detto, no, io piscio, 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 e dopo un po'... Immagino pure un hating gigantesco, pure oltre la scena tua, diciamo. Io ti dico che una certa mehateravano pure le fan dei Broken Heart College, perché avevo iniziato ad avere un'attitudine troppo punk, nella scena pop, no? Rispondevo male, facevo le interviste, cioè, mi ricordo le interviste, sì, c'erano le interviste mie, che non ci sono più fatte le vante. Tipo che rispondevo all'intervista, mi mettevo a ride, capito? Adesso, l'intervista di me mi fa la domanda, io stavo a ride. Cioè, tipo, ma insomma, che cazzo... E c'erano sentite i ragazzi, eh, Nicolò, non è più possibile, questo atteggiamento, sei impazzito, hai perso la testa. Sì, avevo perso la testa, in quel periodo ero un pazzito totalmente, tutti i giorni imbriaco, capito? Come... Ma una cosa, ma questo vuole poi lasciar perdere? Sanremo, che ruolo c'ha avuto? E che cosa è stato per te, quella cosa di Sanremo? Sanremo è stata una merda eclatante. Aspetta, premessa, arriva la proposta di Sanremo. Come la perdete? Non è che ci arriva la proposta di Sanremo, semplicemente Universal ci fa, volete fare provino per Sanremo? E noi abbiamo detto, boh, sì, ma non ci saremmo mai aspettati che ci prendevano. Quindi siamo andati a fare sto provino, che consisteva nel cantare davanti a una giuria, non mi ricordo quante persone, non mi ricordo chi erano, Parliamo anno? Parliamo del 2010, non so, Che ancora saremo giovani, non aveva la struttura da adesso fatta un po' in una sorta di... tipo talent show, no? No, sì, te prego, leva il video di Sanremo. Levalo, bloccalo. Senza audio. Tello così, ma senza audio. Senza audio. Perché, calcola, io non l'ho mai visto, non ci ho mai avuto il coraggio, per me è una cosa tipo... Aspetta, però ci dobbiamo arrivare, perché me l'ha raccontato l'altro giorno in maniera assurda. Quindi arriva sta proposta provino, ok? Esatto. Come va il provino? Il provino va... Cantiamo, ho detto, vabbè, dai, ora ci scartano, perché sicuramente... Vabbè, che carini tutti... Vabbè, presi. Ok. Ho fatto porco due, Zimodo, ma non a Sanremo? Beh? Cioè, te rendi conto? E... Vabbè, arriva il giorno di Sanremo, tra l'altro io, due giorni prima ero stato a far festa, arrivo a Sanremo con 40 dei febbre, il giorno prima, 40, Ma per l'ansia o...? No, no, ero... Avevo fatto festa, evidentemente qualche locale, qualcuno ha attaccato qualcosa, boom. 40 dei febbre, vomitavo tutto il giorno, eccetera, proprio avevo perso tipo 5, se prende la febbre, quella che perdi 10 kg. Ma potrebbe essere pure un po' psicosomatico, quella agitazione che peggiorava. No, no, te giuro che me ero semplicemente ammalato, mi sono dovuto prendere il coso, l'antibiotico, guarda che deficienti. Dall'altro, l'altro Michele è vestito da Han Solo, non so perché. Poi si muore. Simo ogni tanto smanettaci per copyright, non so se sa mai magari. Oh, però sono passati 15 anni, se mi vedi, non so un vecchiato tanto, eh. No, infatti, ce stai, ce stai. Vabbè, comunque, tornando al discorso, arriva il giorno di Sanremo, io comunque con la febbre salgo sul palco, e, capito, io in quel momento ho realizzato, adesso io sto per fare una figura de merda incredibile davanti a tutta Italia. Eurovisione, tra l'altro. e me, cioè, mi rendevo conto, quindi ho detto, canto a casa, come va, va sti cazzi, e poi vedevo davanti a me, c'era tipo Fabrizio Frizzi, capito come? C'era pure Panariello che ti faceva i cori, hai visto? C'era Panariello, a posta per te. Però, capito, io Fabrizio Frizzi lo vedevo in televisione quando c'avevo, quando ero piccolo, quindi ho detto, ma che cazzo sto a fare con Fabrizio Frizzi che me guarda? Ma che è sta cosa? Ma che scena è, sì? Dove sono? Ma che scena è? Sì, tipo, era una cosa surreale per me, no? Che poi, poverino, Frizzi è morto, cioè, pace all'anima sua. Tra l'altro attore di prima fascia, Fabrizio Frizzi. Sì, grande, grande. e niente, quindi cantiamo. Come? Non lo so, cantiamo e chiudiamo là. Io ovviamente ho chiamato subito l'insegnante mia di canto e faccio, oh ma com'è andata? Come abbiamo cantato? Mi faccio, no, vabbè, avete cantato bene, tranquillo, tranquillo, no? E io, ah vabbè, vabbè, tutto a posto. Ma nessuno ci ha detto niente, perché solitamente in quel periodo, non è come mo, che va a Saremo, Stony, nessuno, non gliene frega un cazzo, dovevi essere ancora un cantante serio, Saremo. era preso con più serietà. Esatto, cioè, non esisteva che esisteva, cioè, cantavi stonato a Saremo, non potevi cantare con l'autotune, queste cose proprio non esistevano. Non era ancora stata sdoganata. E se cantavi de merda, era successo l'anni precedenti, tipo, e Melody Folle che era successo, un gruppo pop punk, era andare a Saremo, il tipo aveva cantato male, gli avevano fatto un culo così, regalo, ma su internet, addirittura, come si chiamano quei programmi, tipo, no, strisciano la notizia, tipo, tipo, paperisti, paperisti, queste cose qua, capito, queste cose brutte. Ho capito, blob? Non lo so, quello là, tipo i nuovi mostri, quelle cose così, no? sì. E, non so, l'avano devastati, noi avevamo cantato de merda, ma nessuno, non so perché, nessuno, ha detto niente, la gente così. come se, come se avessero detto, l'avessero capito che, voleva di un cazzo, guarda, non inferire su un cadavere, la croce rosa, sparare sulla croce rosa. Tutti zitti, capito, sta cosa, gli unici che ci hanno iniziato a sfonnare, erano i pischelli su YouTube, gli haters, eccetera, perché il video è stato subito caricato su YouTube, io sono andato a vederlo il giorno dopo, c'era una sfirza dei commenti, tutti insulti, a pippe, cosa che cazzo è? Poi, poverino, secondo me Michele ha pure cantato decente, so io che ho cantato, eh sì, in quel momento sentiva che te c'hai qualcosa che non andava, ma sì, ma non sono mai stato un cantante, non sono un cantante. Michele era pure più formato, in maniera più classica, lui faceva tipo lezioni di canto, mentre tu come me, noi eravamo autodidatti, ma io venivo, io l'anno prima stavo a urlar, a rcorso i palchi, che cazzo ne sapevo di cantare un postato. infatti, come dicono giustamente in chat, la YouTube del 2010 poi, cioè ancora più pesanti nei commenti. vediamo se Simone si ricorda, Simo, tu ti ricordi che successe lo scandalo, quello tremendo di quello YouTuber, che ai tempi andava anche decentemente, si chiamava Sceffo, che in quei periodi fece il provino Pex Factor, ti ricordi come andò? Mi ricordo benissimo, fu iterato perché non cantò bene, a voglia, mi ricordo. Sì, lo sfondarono proprio, ma una cattiveria, lui smise praticamente, di cantare. Eh sì, sì, io lo conobbi poco dopo, pensa, me ne parlo a lui proprio, personalmente. Eh perché tu... saremmo storicamente dei cacacazzi da... da secolo. Quello sì, però YouTube secondo me, ancora era... No, in generale sì, quando... In quel caso era proprio lo YouTuber, che va a fare la prova nel mondo reale, quello serio della televisione, e non va benissimo, e quindi era la scusa perfetta per sfondare, cioè proprio... no? E poi c'erano molti più trollini, te ricordi bene quel periodo, Simo, che bazzicavi tanto sul web, era strano pieno di trollini, di gente che iterava, cioè era tipo late speech consentito, diciamo. Sì, era più regole d'ingaggio, più permesse, ma poi... Non è cambiato tanto. Eh, sì, basta vedere se succede comunque. Vabbè, diciamo che Sanremo, non so se tu la pensi così, Simo, nel tempo ha perso, ha sempre ceduto un po' di più, poi alle regole del mercato, nel senso connessioni, tale da Nanshaw, manda l'artista, l'etichetta manda l'artista, e ha perso un po' la sua sacralità col tempo, ora non si scandalizza più nessuno. Ma Sanremo ha sempre ceduto alle regole del mercato, cioè è sempre stato specchio della musica che andava in quel periodo, cioè se sentiamo quelli degli anni Ottanta, c'erano gli artisti che andavano negli anni Ottanta, ora nelle classifiche c'è l'autotune, quindi si mette il lato di un... A quei tempi era perché non stava nelle classifiche il motivo per cui non si poteva usare ancora, a mio avviso. Sapete cosa mi avete ricordato? Che l'altro giorno, casualmente, grazie all'algoritmo, mi sono imbattuto in un video, non so di che anni, in cui praticamente c'era una sorta di contestazione a vari artisti italiani, era una sorta di... Ad esempio, Carmelo bene contro tutti, eccetera, però succedeva pure con, che ne so, Battisti, e ho beccato questo video di Battisti che rispondeva al pubblico, alle critiche del pubblico, un signore di una certa età, molto educato, insomma, però io sinceramente apprezzo i testi e tutto, però non mi piace come canti. Che mi diceva lui dall'altro. No, vabbè, dicendo le due canzoni, non le reputo brutte, però non mi piace come canti, e poi, giustamente ho letto un po' dei commenti, effettivamente, magari il classico uomo che si sentiva Villa, che era abituato ad un altro tipo di musica, ovviamente. Un bel canto. È proprio la tecnica pura, però è stato assurdo vederlo oggi, perché ho detto, porca puttana, cioè all'epoca contestavano persino lui. Assurdo. Eh sì, perché era troppo moderno magari, metteva pure nei dischi, vabbè, metteva, mi ricordo, la doppia voce, già era uno dei primi magari. Mettilo se lo trovi, Simón, sta su YouTube. Chissà come reagivano all'epoca le persone. Pensa pure Marchè, un celentano, pensa che impatto c'era avuto all'inizio, prima volta che si è presentato in questi contesti qua televisivi, a San Remesi, la gente ha detto, vabbè, questo è un passo scatenato. Sì, le canzoni poi parlate, alcune. Eh, pure Renato Zero, infatti, Renato Zero pure sì, raga. Anche se Renato Zero cantava già abbastanza bene, però era non convenzionale per altri motivi, diciamo. Beatles stessi, dicono in chat, Claudio Villain pure. Claudio Villain, quello bello. Fato uno dei peggiori. Allora, posso mettere Battisti criticato, mi sa. Eccolo qua, Simón. Che cosa cerca? Lucio Battisti, te lo mando? Ah, su Whatsapp? Lo conosco quel video. quello che ho cittato. si confronta con il pubblico. Si confronta con il pubblico. Metti Battisti criticato. Esatto, vai mettilo, mettilo. Cassare. Perciò io non mi sono sentito male questa cosa. Bucio Battisti. Sentiamo l'audio. e oltre a questo bisogna avere delle doti totali, oppure tu ritieni che non siano necessarie. E più avanti, quando c'è il signore, per un po' avanti. In una maniera o nell'altra, comunicare qualcosa. Cioè, anche se tu non hai le doti, quindi doti, queste doti non sono stabilite. Sentiamo un attimo il parere di Cantalissim. No, io non sono d'accordo. Cioè, non sono d'accordo. Io non sono d'accordo. io penso che se quello che conta è il messaggio, e il cantante non conta più niente, no, 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 è l'emozione che può dare. Allora, perché quello che vogliono dire non lo scrivono su un manifestino? Cioè, già la scopa in culo si è sentita dal... Io non sono d'accordo. Vado a parlare di un manifestino. Guarda, già l'ho inquadrato a questo. Sta sminuendo il messaggio del cantante, in allora fai un disegno, invece di cantare se sei buono, praticamente. Distribuiscano questi manifestini all'uscita da un cinematografo. senza farci assistere a questa storia che tutti si scusano. Perché quello si scusa che non sa sonare. L'ultimo, in un programma di Renzo Arbore, ho visto due, un duo, che è venuto e dice scusatemi perché io non so sonare il flau. Quell'altro, scusatemi ma io non so sonare la chitarra. Ma allora, che ci venite a fare se non sapete sonare il flau, se non sapete sonare la chitarra? Dice, ma è importante, Lucio Dalla ha detto, è importante quello che dicono, quello che dicono. Ma allora, scriviamolo, scriviamolo su un bel foglio di carta e ripetelo, questo boomer. Veramente ha dei sacrifici immensi. Scusi, ma allora chi è che ce li fa venire? Chi è che ce li fa venire? Chi è che ce li fa venire? Sembra la classica live disco del Cerbero, questa è niente di più, niente di meno. Io non sono d'accordo. E tu più che risponde, guarda. Eh vabbè, andiamo avanti. E' arriva Lucio Dalla, infatti ha detto Lucio Dalla, ha detto, quindi io non c'è. No, 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 non mi, no. E' un signor Mauro dell'Evola. A me piacciono le canzoni di Lucio Battisti, ma trovo che, secondo me, non le canta in una maniera che a me piace, perché io preferisco sentir cantare con una voce un po' più gradevole, diciamo. Ecco, io trovo che Lucio Battisti non ha una voce, secondo me, gradevole. Scusate, forse sono impertinente, ma la mia abitudine è di dire la verità. però trovo che è un ragazzo di grande talento, di grande talento. Certo, la mia verità, non la tua, evidentemente, devo dire la mia. Questo va da sì. Non ha una voce gradevole, però riconosco che c'ha una grande grinta, una grande forza di espressione, eccetera. Però voce, non ne parliamo neanche, ecco, perché proprio non ci siamo. Va bene, allora, è importante la voce o non è importante la voce per poter cantare una canzone? Secondo me no. Vorrei rispondere io un momentino. Sì. Non in polemica con Nissim, assolutamente, però la voce non è importante perché Louis Armstrong canta benissimo senza avere questa voce straordinaria, però è un cantante. Certo che questo è uno che è la voce particolare, in senso musicale. Cioè, fa della musica con la sua voce, per cui questo... Vabbè, era una sorta di arena anche lì. Sì, è un Discord prima che gli stessi discoli. Comunque c'è una donazione di Ellis che dice Rezi, ovviamente quell'effetto distorto dei tuoi pezzi è una cosa voluta. Anch'io sono un produttore e ti voglio fare i complimenti per il tuo percorso, nonostante faccio un stile totalmente diverso. Gigi Razzi è l'uomo ricco che fai che gli pare e che gli va bene e gli riesce bene. Come rispondi? E che vuole di l'uomo ricco? E che ne so? Sei pieno dei sordi? Forse perché sembra su Instagram non lo so che è bella quello là. Allora, la distorsione è voluta nei pezzi parla del funk. Quelli recenti parla della funk perché io mi sono rinventato l'ultimo anno passando da cioè io nasco come produttore dubstep edm cioè comunque erano abituati a un mix master molto clean in un certo livello e poi è un anno che faccio sta funk. Sono stupido io fermate, sono stupido io ho letto a buffo ricco invece c'era solo scritto l'uomo che fa il che gli pare e il che gli va sono stupido io. Ah ok. Scusate, non c'entra nienta. Non sei copia. Continua pure. Hai pezzo a vericchio e niente. Non hai fatti niente sono tornato a essere povero insomma. E niente, si è voluta la distorsione assolutamente è una caratteristica della funk di sto genere che sto facendo da un anno pezzi nuovi eccetera che mi ha svortato tra l'altro da dire sta cosa ma ho rifatto tornare a numeri eclatanti e hanno messo pure un pezzo su Fortnite c'è un pezzo su Fortnite e Flair si chiama quindi se giocate a Fortnite regà e sentite vabbè che cazzo ne sanno andate su Spotify sentitevelo si chiama Flair se lo riconoscete fate il video e mandatemelo per favore se vi capita Suder potrebbe penso che si Suder sta tutto il giorno su Fortnite poi lui pure è musicista ah è vero è vero Warpix top e vabbè quindi ok tu mi hai praticamente l'altro giorno mi hai detto io quel video non l'ho mai aperto ho solo visto la sezione commenti non ho mai cliccato play esatto esatto io sono sceso ho letto i commenti tornando al discorso di Sanremo ho visto che erano tutti insulti e regà io vi giuro che sono passati 15 questa è proprio una la verità non l'ho mai detto a nessuno non ho mai visto la mia performance di Sanremo perché mi vergogno di me stesso capito guarda che Simone l'altro giorno ha fatto un discorso identico no Simo capito sugli sfoghi sul fatto di non rivedersi è normale ma pure perché non ti riconoscevi magari un pochetto no regà cioè mo dici ma sono passati 15 anni riguardatelo ma talmente tanto ma ma ha bruciato quella cosa nel senso a livello psicologico madonna di aver fatto così schifo perché io non mi serviva a fare così schifo capito come io non dovevo finire a Sanremo a cantare merda era una cosa che proprio è stato un incrocio dei cose ma manco trascinato perché comunque non è che abbiamo detto no abbiamo detto boh sì però capito non mi serviva è stato un errore secondo me e quindi non ho avuto il coraggio mai di rivedermi quella cosa nel senso vabbè dai magari domani ma mi faccio coraggio però quelle cose che fai nella vita che dici ma voglio dimenticare assolutamente tipo quelle là che rimangono che ne so bruciate da un certo ragazzo nella vita e non vogliono vedere manco più una foto niente o bloccano ovunque una cosa del genere ok io non ho mai visto quel video voglio vedere dopo questo ti ho detto bloccalo vabbè vabbè è meglio di quello che pensi sì sì ma infatti sarà così nel senso ok non è che ho fatto sono andato a stare c'hai capito si però si sentiva che stavi che te ne facciamo alla gola che non stavi a top insomma si sentiva che non era la performance della vita che non era un cantante e ti si leggeva in faccia che non eri sicuro di quello che stavi a fare i dubbi si vedevano anche in quel momento perché si vedeva che non era ma chiaro c'è tutto qua chiaro però c'è stanzo ma le fa dopo quella botta cosa è successo cosa è successo in caso succede nel senso tante cose nel senso che abbiamo continuato per un periodo poi e la cosa diventava sempre più grignani in style c'hai capito come nel senso scene folli ai concerti risse ubriachi ubriachi nel backstage una volta mi ricordo che stavamo c'è il camerino accanto ai maroon 5 all'ntv coca cola live del 2010 era cocaina live no però non si drogavamo non abbiamo mai fatto uso dei sostanze stupefacenti di quel tipo mai solo arcolizzati ubriachi vabbè è venato adam a quel coglione no no però mi sa che quella sera mi sono scopato una che si scopava lui vabbè meglio quindi mi sono sentito un po' a livello suo capito è un attimo e praticamente loro i maroon 5 hanno detto allo staff di ntv che se ne andavano perché il camerino accanto stavano facendo troppo casino nel camerino accanto c'è stavamo noi ci avete rovinato tutto abbiamo fatto il panico coatti la di spolani devi capire bisogna interiorizzarsi in formazione coatti la di spolani è quello è tu li metti li metti quello è allora calcola io mi vergogno questa cosa quindi non è che la sto dicendo per fare il figo ok tornassi indietro mi darei una pizza in faccia da solo io mi ricordo che quel giorno ho pisciato sul muro nel camerino ecco questo manca i coatti la di spolani ho pisciato perché si eravamo avremmo perso la testa cioè io in camerino ci stavano tutte patatine scoppiate perché c'eravamo i pacchi giganti li tiravamo per aria e avevamo tipo a carci volante tipo che esplodevano no ok giubbotti buttati per terra vomito no perché nessuno aveva vomitato un letamaio praticamente gente in verticale che c'è capito di un circo proprio e per di gente in verticale sì tipo sono entrato a una certa sentivo tutto casino c'era Michele in verticale che camminava poi c'è stava tipo come si chiama Giuliano Palma che c'è cazzo è cantante è lo solo gli eri pippato sulla pelata gli eri pippato sulla pelata si era ritrovato la raga si era ritrovato nel backstage con noi quando ha visto che eravamo molesti all'inizio cercava di far simpatico questa quando ha cominciato a vedere che io mi mettavo dai capito quelle cose tipo è anche vero capito mezzo no vabbè raga io torno di là tranquilli tipo scene del genere e io mi ricordo che pisciai sul muro quel giorno da denuncia e non finì lì non finì là eh sì ecco sì esatto lui lui che non so quanti anni però già era grande lui era pieno di capelli lunghi tutto bello insomma bello capelluto e da quella sera diventò così insomma ha fatto stesso effetto anche a me conoscere Nicolò che era nel tempo anche io mi sono ridotto così e niente praticamente tra l'altro pure Marco Mengoni c'era Marco Mengoni un giovanissimo un giovanissimo aveva qualche anno più vabbè a me sa che lui aveva già 28 una cosa del genere lui aveva 20 anni tipo e mi ricordo che ci siamo messi a cantare la classica mi dice piacciono i polli con Mengoni cioè Mengoni che canta questa cosa con noi regà ve giuro però finissimo mega melodia esatto vabbè ma sta scena è incredibile scena è incredibile e se ne vanno i Maroon 5 after party al in un locale dove io vado a piedi perché avevo perso tutti i taxi che c'erano con una massa dei ragazzini dietro che mi seguivano fino al locale e lì regà per colpa mia e ve giuro pure di quello mi vergogno mi dispiace se c'è deve essere qualcuno che stava a quel party quel giorno mi dispiace sono un coglione ho fatto un casino un coglione ho fatto scoppiare una mega rissa ma proprio brutta c'è gente che si tirava i bicchieri e perché so ho iniziato a camminare in mezzo alla gente tipo a razzo cioè tipo così e cadevano le persone hai capito come ma che cazzo te giuro che GTA questo dopo aver quasi fatto rissa col chitarrista dei Finlay tra l'altro ma che cazzo quindi capito di che stiamo parlando non è un bravo ragazzo uno è tipo 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 di PG in confronto dal Polo Gang tra bravi ragazzi capito come mi era partita la testa in che città dicono? a Napoli regà madonna mia vabbè a Napoli a Napoli e quando sono uscito fuori mi hanno chiuso in macchina amici miei mi hanno detto te non esci da qua porca miseria basta perché cioè potevamo morire capito una certa avevamo visto bicchieri che volavamo il giorno dopo regà mi chiamò il manager mio io ho detto io sono finito non so che mi devi dire mi denunciano cose mi fa oh Nick ho fatto bella grande ho fatto ok mi stanno chiamando tutte le case discografiche Warner ma allora Nick del BHC ultima rockstar ste cose non si vedevano dai tempi di Grignani dai tempi di Grignani prima di lui l'ultima era Grignani e poi sei stato tu adesso è ancora Grignani tra l'altro adesso è ancora Grignani è tornato l'unica vera rockstar è tornato un pazzito Grignani è solo lui questo è l'Italia è pazzito è niente questa è poco è quello mi ricordo perché era finito su giornali no 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 era perché c'è nel senso si era tagliato lui perché si erano parlati perché l'after party c'era tutta gente da NTV discografici eccetera quindi tutti potete capire che cazzo è successo ieri sera ok cioè ti aspettavi per cazzo proprio un maleducato di merda io pensavo invece no però lì era finita lì era finita la festa capito comunque quello era l'ultimo evento che abbiamo fatto in assoluto su NTV come Brunner College siamo bruciati tutto e dopo lì ho accannato mi ricordo che dopo quel periodo dopo due tre mesi che era finita la festa ho detto vabbè che cazzo devo fare vado a lavorare avevo 24 anni ah beh giustamente e lo sai che ho fatto ho mandato il curriculum di quello che facevo cioè musica in realtà a H&M ma che cazzo ti giuro ti ho scritto dei tour degli hopstylast sul curriculum no però io ho scritto che io ho scritto che che cazzo c'è scritto sul curriculum veramente guarda avevo scritto che ero il cantante del gruppo pop che era finita che volevo lavorare e questi mi hanno detto che no non andava bene perché giustamente hanno detto questo è cazzo gliene a famo da noi a far che è il commesso da H&M da popstar tra virgolette a fa commesso e c'è ma hanno pisciato e niente dopo lì ho detto beh sti cazzi mi sono messo a produrre perché lì ho scoperto Skrillex in quel momento e poi dal da lì sono partite altre mille cose che se te dovessi raccontare ci metterei due giorni però adesso quando erano ancora conoscere i tu e Dave quando erano ragazzini io avevo 17 anni lui 19 sì eravamo veramente piccoletti ma diciamo appena un paio d'anni dopo avevi formato le band diciamo quelle prime band che c'eravamo in quel momento noi siamo conosciuti tramite Becco credo sì mi ricordo stavamo alla Dispoli anche perché io andavo sempre in vacanza alla Dispoli lui ci abitava quindi i ragazzetti alternativi che facevano sta roba erano pochi a un certo punto tempo e calci la tua band come si chiamava? allora la band che aveva i tempi quella vecchia era i Doomsday ok dove c'era pure Fata? no no con Fata stavamo tipo frequentavamo abbiamo abitato insieme per tanto tempo ma frequentavamo lo stesso giro musicale diciamo per sentire quello che facevo i tempi che stava la band che ci ho avuto dopo e ti ho messo fra i link che erano i Fiat desirats per sentire pure che il dinosauregge un po' sentiamo sempre il passato oscuro di Dave Revan io intanto c'è una domanda hai fatto il paragulo e hai messo solo l'audio perché non vuoi farti vedere non so qualche anni fa il video mo l'ho aperto io perché tu avevi mandato solo l'audio vai Marco fai la domanda non c'era nel video semplicemente c'è una domanda di Tech Flame vai che chiedeva se Reziel poi una domanda che volevo fare pure io era tratto da Legacy of Kain sì assolutamente sì bella per Legacy of Kain raga gran gioco playstation 1 fighissimo hai trovato pure una connessione corchitano l'ho sospettato Raziel giocone giocone ma che tui capelli ero uguale a moco ero uguale a moco o comunque mi stanno a dire tutto che sto qui Raziel identico a Yellowwood uno side uno Ryan Gosling cioè da side a Ryan Gosling diciamo che ci passa un pochetto no vabbè side c'entra un cazzo ma forse la voce dicevano sì la parlata sentiamo sentiamo Dave andiamo vai 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 ma che boom rega ok oddio è un pochetto di peggone mini peggone mini peggone mini peggone sto a tuor melodico che era la gasparezza? eh no era tipo Monte Bozzi o Capone è un pochetto di peggone è un pochetto di peggone uguale vestito pure uguale già ho abbandonato le maniche direttamente questo perché era la seconda band che c'ho avuto questa era già tipo 2012 comunque tanti anni fa però non era ancora quelle latino 2006 dell'altra roba però insomma eravamo tutti urlatori da sala prove insomma quello era però andava insomma urlatori da sala prove vabbè poi facciamo il nostro insomma io con la band quella prima di questa ho fatto pure parecchi tour in europa stato tratto cioè la cosa mi veniva in mente è che poi noi abbiamo stato in svezia e in svezia suonato con i parkway drive ai tempi nel nostro gruppo di riferimento come lui ha suonato con ben in horizon invece sta bene andò un po peggio però secondo me tecnicamente era era più figa insomma il disco soccontentato e poi tra l'altro sto disco lo produsse becco cioè in studio come si chiamava sta bene sia the sirens ok giusto venne prodotta da becco insomma nel nel coso nel nello studio su insomma dei tempi vabbè adesso becco insomma lavora pure con youtube ha fatto tanti ha prodotto tanti pezzi pure per loro si becco c'è la roba sua e poi c'è avuto pure una parentesi in cui produceva pezzi per youtuber lo fa ancora ma cosa avevamo sentito tipo rosalba sì sì e ok il videoclip ci avrei messo solo una mega ventola mancava solo quello ma che spingeva tipo i vestiti vestiti all'indietro è figo ma guarda la roba qua era c'è conta questo videoclip abbiamo messo una fotocamera in mano a un amico nostro che ne ha mai fatto riprese e poi l'ho montato io con mac vecchissimo ci ho messo mesi perché ne cresciava sempre perché un sacco di riprese pure voi era budget meno di uno no zero e movenze classiche al corria una certa c'era proprio la gara di chi faceva la move più figa di jacopo era il fenomeno assoluto era forte si pure lilli meravigliosi arti mortali e cose i pestoni molto scenico diciamo tra l'altro al concerto a praga che abbiamo suonato con i green day con gli opps the last per fare quella cazzata del pestone a giugno per dare la pietata per terra mi sono sfondato il tallone mi ha fatto male per una settimana questa cosa che ne movenze al corria si alzava la gamba al ginocchio stava un pestone a terra nel momento in cui cadeva il rullante tipo senza senso che poi rifarò tra l'altro sabato prossimo quindi cosa sbucherà ma voglio divertì e comunque fatto sta che dopo sto vedo nasce effettivamente razzi al produttore e diciamo che tu esplodi con vari pezzi secondo me quello che ti ha fatto esplodere più non so se pure tu la pensi così fu remix di cam and get it secondo me qua in chat lo conoscono tutti quei remix sono abbastanza sicuro un riferimento per i video del calcio virale a stecca si rega crewella com and get it razzi al remix sentiamo un attimo simon io ho capito che canzoni ma però io vorrei far sentire stava ovunque che sta nata molto bene perché ha capito già tempo era in grande mematore è tirato fuori un meme di internet l'hai fatto diventare una canzone a cabra che urlava che fa troppo ridere metti e falcon punch l'ho messa fra ci voleva il seo vedi però conoscono e madonna se tu che l'hai fatto incredibile no no ma pieno di minchia sta ovunque e si chiama in gare bella fortissima diventò certo del pezzo originale quei remix ma ora sono stupito dalla gente che ce ne stanno un botto che quest'anno dei razzi che non lo sapete non pensavo insomma sono belli cultori della musica qui non grazie la rega ai tempi la dubstep italiana erite forse anche europea testo di la dubstep di quel di quel giro commerciale dubstep di shop della roba monster cut non c'era un esempio monster cut è arrivato un sacco dei altri che ditte caso quando sono messi a favore roba no easy a queste cose qua è saltato proprio il livello hanno dove in alto però a cui tempi di dicevi la tua anche a livello dei news proprio infatti uno scritto bene raggio è colui che hai sempre ascoltato ma che non sai chi cazzo sia è vero la cosa qua ma fatti tu in realtà c'è tipo che ne so milionate si svagate milioni su spotify però magari dici in giro te fermano raramente esatto esatto magari sto in un posto di stare cazzino che sta pure in fissa con un pezzo mio ma non sa che faccia ciò ma te ecco questa cosa mi sento ne frega un cazzo allora si così o preferisci guarda dipende dai punti di vista nel senso che a volte meglio così quello è l'omi atoll della musica la battaglia sta definizione però le cose stanno cambiando nel senso io ho avuto un periodo che facevi tour e c'era poi mi sono fermato adesso che mi sono ordinato questo progetto funk raziel è tornato a vece numeri grossi c'erano due milioni e due di ascoltatori mesi esatto e due mesi fa stavo a due milioni e otto tra l'altro un po calatino e quindi comunque sono numeri più arti dei rapper famosi italiani escludendo i vari sfera magari t'hai riscordato una cosa me lo scordava pure io lo scrivo una chat di chris brown in tutto c'è prodotto pure delle tracce a chris brown però pure scordato pure lui si era scordato al momento scommetto avevo detto l'altra volta due tracce a chris brown ah sì è vero è il periodo in cui gli emanava a rihanna mi sa era e quello gli hai prodotto gli hai fatto il favore c'era la cosa perché ha detto lo so fiero di te lo faccio te regalo stiamo 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 sentiamo sentiamo la canzone da capra come si chiama ce n'era pure un'altra dei dei va avevi detto però solo audio vorrei curioso ma io metterei direttamente falcon punch che è cruel ha scritto beh ho sentito quello che ho sentito quello che che fa schifo non c'era lui un complex troppo le qua roba ma ci serve una ring light e basta in realtà la spina della ring light no ce l'ho la ring light sempre troppo la spina web cammela bomba e c'è al lancio stigato madonna questi sono proprio i suoni per 2011 massimo su stima ripresetta dei massimo comunque si che riguarda la remix secondo me come in grado conoscono tutti quanti e si vedi se la puoi mettere un attimo se non la riconosco perché in tutti i video dei calcio dei pezzi di Cristiano Ronaldo quando mi ha fatto sentire la classica cosa tipo i best of che si vedono i pirlas queste cose qua se si questo video pure c'ha bollato dei user ricordo consigliava sempre youtube un periodo sempre un periodo no magari non questo proprio però ce ne erano 2000 bella gente ma cazzo è famosissima non lo sa non lo sa non lo sa ma fatti qualcuno dice ma che è sto coglione che avete invitato sono un coglione sicuramente sono un coglione è un coglione comunque però ha fatto anche delle cose buone 100% coglione però ha fatto anche delle cose buone alle volte vedete il successo non è diciamo paritario all'accostamento del volto e se poi mette un pezzettino dell'altra è detto ho mandato Raziel e Savant quella è la prima collab che ho fatto nella musica elettronica e lui mi ha spinto lui e ha fatto ah facciamo sto esperimento quello insieme no? così cominci a far qualcosa da solista e è una figata ho visto mille montaggi di Rocket League comunque con qua si stava ovunque 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 ho fatto questa collab con lui e Savant e questa voce che sentite alla Backseat Boys è la mia Dave inedito eh si quasi inedito comunque i viscali sanno un botto di cose è un po' Ciao! Vedi infatti in chat Nicolò ha detto Stichichelli 90% della chat C'ho 30 anni C'ho 30 anni Io per esempio c'ho 20 anni Lo sentite poco queste canzoni Perché i ventenni di oggi L'hanno un po' bypassata la fase d'upstep Eh però se stanno a sentire a funk I ventenni di adesso Qualcuno ha chiesto cos'è Come ce lo descriveresti questo genere A funk A funk è un genere musicale Che oddio mo' se c'è sta qualche purista Dice questa qualche cazzata Ti faccio un culo così C'è Simone Della funk Sottogenere del rap Del Memphis rap Che è un genere che esiste da Penso inizio anni 90 Che poi si è sviluppato in funk E poi in realtà è diventato Negli ultimi anni Per dei producer russi Soprattutto russi Perché sta cosa Della funk esplosa in Russia E hanno iniziato a mettere C'è cassa dritta E c'era Quindi l'hanno reso un po' più Tendente all'idm Electro house Si è chiamato house funk No è chiamato drift funk In realtà quello che faccio io Non è funk Anche se mo' ha gente Sai sottogeneri Che poi li sente E funk e basta Certi dicono così Invece certi dicono No no è drift funk O come vuole perché Vabbè È esploso Che la famosa traccia Presa da Tokyo Drift Remix là Quindi Sì anche Però più che altro Drift Perché ci fanno i video Tutto ora Dei drifts Su tiktok Dei macchine che driftano Con sotto sti pezzi Col cowbell E poi tiktok l'ha fatto esplode Con queste tendenze Ad essere tiktok da adesso Quello che senti Ad esempio Questa roba Dei mega chad E il funk Come adesso Su spotify Quello che poi È una fonte di guadagno Ottima Per i producer Che sono molto prolifici Perché in questo momento È proprio Alla ribalta Delle classifiche De spotify A me A funk Onesto Proprio lo dico Qui diretta Mi ha sbordato Tipo la vita Cioè nell'ultimo anno Mi è cambiato tutto Marderi in my mind Dici tu Marderi in my mind Ci ho fatto un pezzo Con Cordell Questa qua È in zona mondiale Io e lui abbiamo fatto Un pezzo insieme Qualche mese fa C'è un po' Ah niente Questo è Ragazzo Questa Cordell Con cui ho collaborato Abbiamo fatto Una traccia insieme Che si chiama To hell and back Ma sta traccia Rega adesso Fa un milione Al giorno Ma si ne vede Io ci parlo con lui È un producer È il più Cioè calcola I pischelli che fanno funk Sono tutti ragazzini Sono tutti vent'anni Lui è il più forte Infatti c'è una 42 Si metteva maschera È inglese Viveva a Los Angeles Produttore metal Infatti pure lui Stesso background mio Chitarrista Perché è quella dei Sigma Sì è quella dei Sigma Ragazzi E niente Questa è tutta la scena nuova Con cui io collaboro Con questi pischelli Cute Che c'è una traccia Si chiama Void Me E sta roba Mi ha svortato Perché io sono passato Da 200 mila Scortatori mensili Che c'avevo un anno fa Due milioni e mezzo Nel giro di un anno E mi sono arrivate Anche proposte Senza che stiamo A dire cifre Gigantesche Da discografiche Mondiali Americane Eccetera E l'ultima roba Clamorosa Che ti è successa In ordine di tempo Qual è? Non lo so Qual è? Remix Forco 2 Ho fatto il remix Ufficiale Dell'ultimo pezzo De David Guetta Remix ufficiale De David Guetta Ma cosa ricorda lui? Eh no perché Una robetta da niente Sì esatto Due mesi fa Mi ha contattato Il discografico Della Warner Mi fa Mi piace Il remix Che hai fatto Di Move Your Body Che mi va forte Mi fa circa 70 mila streams Al giorno Su Spotify Se vedete E mi ha chiesto Vorrei che facessi Un remix Stile quello Della hit Del momento Che è I'm good Blue De David Guetta Che poi sarebbe Quella del L'ennesimo L'ennesimo E FL65 Continua A fare i sordi Appalare La roba auto Blu Diciamo dai E quindi ho fatto Remix De quella Purtroppo Cioè nel senso Purtroppo no Comunque Sta andando Lo ascoltano Però poteva andare Molto meglio Secondo me Solo quelli De Warner Hanno fatto un macello L'hanno buttato online Senza di mancazzo Non c'ho avuto il tempo De far promozione Niente Pitch su Spotify Però ste tacce Spesso decollano Anche dopo E basta che finisci In una playlist Basta che uno Far tiktok giusto Può parte pure Da buon anno Capito come Infatti io tipo Move your body No Il remix Che ho fatto No che è Move your body Come cazzo Si chiama la canzone Manco me ricordo Non si ricorda Ancazzo Invece è un coglione Mi sa Move your body Proprio Sì Move your body Razia del remix Che era già famosa L'originale Quando l'ho fatta Inizialmente faceva 3-4 mila streams Al giorno Dopo un po' È partita su tiktok Io dopo due settimane Cerco Faccio Ma che cazzo Vedo 70 mila Tiktok Con il pezzo Su tiktok E il pezzo Mi comincia a fare 20 30 40 50 No certo Faceva 80 mila Ma un po' è sceso Fa 50 60 mila al giorno Però capito Su tiktok Adesso è tutto tiktok Il lupo dice Questa avrà perso Tanti di quei sordi Perché non ricorda Che cazzo ha fatto Non ti preoccupare Che sto messo bene Con quello Sì Vabbè Sul fatto di Diciamo Marta Vorta I diritti d'autore Tu sei un pazzo Scatenato Tutta posto Ma poteva essere Dieci volte Tanto Non per questo Viva Dubai Tra un po' C'è la tra pochissimi C'è la motivazione Con Sasha Che? Anima Anima Ma io non lo conosco Eh vabbè Ah quindi non si può Diva Sasha Vabbè No Io non so niente Te sta pia per culo Te sta pia per culo Tranquillo No l'ultima cosa Poi andiamo verso la conclusione Tu ci hai avuto pure una parentesi Diciamo Da produttore In ambito trap rap No Avevamo sentito pure qualcosa Con Felicia No Fishball Sì sì Cuba E sai Lo che vuoi dire Semplicemente Io facevo un tour In Cina C'avevo due o tre date Come Raziel Un periodo Cioè comunque Suonavo ancora ad Upstep Non c'era ancora Sta cosa Della funk E Fish Mi fa Oh famo un video In Cina Che viene figo E faccio Poi vai Scrivi Ha scritto Sto pezzo Tutto improntato Anime Manga Che poi si dice Però stanno in Cina Non stanno in Giappone Però lei ha detto Vabbè si cazzi Mi sa che direbbe il signor Mauro Questo Ha battuto da tutti Qua roba là I cinesi Sì sì Sarebbe così Tutti i cinesi E abbiamo fatto sto pezzo Al volo Tipo una settimana prima E per divertimento Abbiamo girato Con un amico nostro Che era venuto con noi È bella Così era proprio Tra l'altro Regà mi hanno fatto Un culo Su Twitter Per colpa di sto video Non racconto Sto gag Non so se Non te l'ho raccontata A una certa Io dopo un anno Che era uscito Questo pezzo qua Apro Twitter Vedo Tipo 100 notifiche Faccio Ma che cazzo è Non mi arrivavano mai No Vedo Inizio a vedere Tutti insulti Da parte De asiatici americani Ma E io non capivo Dicevo Ma che cazzo What the fuck Is this shit Tipo cose così No E io E me stavano Andate il razzista Per la fusione Cina-Giappone Perché no No Non per quello Perché sul brano Una certa Io dico Yellow Beach Puttana gialla Non l'ho scritta Gli attenzioni Il testo Io mi sono limitato A cantarlo Però era arrivata A sta cosa Tramite il mio Comunque percorso De Raziel La gente mi conosceva In America Quindi qualcuno ha detto Guardate che ha fatto Raziel E' finito Nella comunità EDM Asiatica C'era la capo Ti giuro che c'era Il capo Yenar De Dimmac Una pischella Bene deficiente Sabe Ecco Io dico Te sei una deficiente Sti cazzi Che sia Cioè Non è onesto Perché proprio Il modo in cui Mi insultava Sabe Quella che Voleva che Mi cancellassi Da internet Che Niente Mi aveva preso Proprio Una mira Pezzo Io dico Ragazzi Ho fatto Ho scritto Un comunicato Ho scritto Questo qua Non voleva essere Un insulto Alla cultura Asiatica Comunque anime Quelle robe lì Ma un Non lo so Tipo una Cioè Fish è stata sempre In fissa con gli anime Quelle cose là Quindi ha voluto Fa un pezzo Vestendosi così Che invece No L'avevano presa Tipo presa Per il culo Dipende sempre Quanto conti Perché se ci pensi A quel tempo Stava Look at me Now De Chris Brown Con Con Busta Rhymes Che apparentemente Diceva Cioè Diceva Yellow Moodle Lui Dava Del yellow Alle pischielle Cinesi Però A quanto pare Non era detto Tipo Tipo Brutto Capito Tipo C'hai capito Come Slangone americano Certo Non è rispettoso Ovviamente Esatto Però Era quel periodo In cui era scoppiata La cosa Mi sa che era morto Quel ragazzo Esatto Era quel periodo là E quindi In America Appena dicevi Una cosa Che poteva essere Un po' Ah Sei racista Fai schifo Merda Devi morire Capito come E poi ci ricolleghiamo A Sdrumox Però Nicolò Questo non lo sa No no Ebbè Che succede Qualcosa Sono diventati gialli Esatto Aia E cala Secondo me Una piccola Al prossimo ban Al prossimo ban Ragazzi Quella è cosa Quella è littero Quando c'hai Troppa bile Grazie Grazie a Paolo Per i due abbonamenti regalati Allora andiamo In chiusura Devo fare solo Un'ultima domanda A Nicolò In mezzo Come dicevo Nel chat Giustamente Tu hai toccato Praticamente Tutti i generi musicali Ah tutti no I war jets Non ho mai fatto Eh bravo Nel senso Ti manca Il neomelodico La musica da camera Che vogliamo fa Un pezzo neomelodico Con l'emico bandetta Che ne so Quando ci avrò 50 anni Metterò a fare neomelodico Aspetta Una richiesta ce l'ho io Allora Se avrai tempo Non lo prende come un impegno Ma se capiterà Così Dica Un omaggio al Cerbero Un remix funk Anche rapido Famolo famolo Rega sono fissa Lo faccio pure tipo domani Eh però Sai di cosa Di Galchie Revolution Oddio Di Galchie Revolution Fai un attimo sentire Se tu riesci a fare remix funk Anche veloce Di questa roba Anche tipo Una strofa Cioè un build up E un drop Noi morimo Poi la mandiamo Già scazzatine Cioè fa la villain song Definitiva Definitiva Poi la sentì Tu brutto stronzo Devi venire ai party Devi suonare con Dave Dovete fare un casino Ma sai quanto se divertimo Famo la prima serata funk Per Cerbero A Roma Succede il panico Sì sì Te prego Sto già fomentando Metti Galchie Revolution Infection Ah sì 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 Ok Ho capito Eh se famo questa Secondo me È una delle mie canzoni Preferite Mostruose Fatelo a Bari A Bari A Bari A Bari Ah perché ha scritto Con un video Giustamente Questa è perfetta Per fare la morte Esatto Questo suonetto Cosenti quella melodia Esatto Marco Io pure ormai Lo associo Alle suoi frasi Mi siete messi contro di me Con una marea di bugie Per ferdersi Per ferdersi Ma ti chiesto Ho perso Tutta le calci E il rivoluzione Perché c'entra Con un po' Eh perché Niente o meno Una storia lunga La storia lunga La storia lunga Poi la racconteremo In separata sede Allora È lunghissimo Grazie mille Per la sub Grazie Ricolò Perché Grazie Ricolò Dai Top live Secondo me Dai Siamo divertiti Grazie raga Grazie pure A Pischelli A Pischelli A gente che c'è Trent'anni A tutti quanti Insomma L'età media Dalla chat nostra È 25-35 Perfetto Allora siamo Coetanei Dai Quando è Sto concerto Ripeti un po' Dato è tutto Quale concerto? Obstailast L'evento Ah Obstailast Prossima settimana Il mio No perché Non ci sto più a capire niente Quale concerto? Quale concerto? Obstailast Prossima settimana Al traffic De Roma Viene pure Mar 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 Vabbè Questo non lo so Se è fattibile Qua cosa là Però per me Non ci sarebbe nessun problema Se volete imboccare Metalcore Emo Night Tra l'altro Quindi se ci stanno Gli ex emo Qua Se divertimo Perché dopo C'è sta DJ set Emo Mettono musica Cose Al traffic Traffic De Roma Dove sta Sua Prenestina Tipo Non me ricordo Sì sì Oppure a Milano Il giorno prima No No scusate 20 Scusate Sono un cojone Venerdì 20 Al traffic De Roma Al 21 Sogniamo a Milano Al Legend Club Ecco Perfetto Perfetto Ragazzi Grazie mille Noi ci vediamo Questa sera Alle 21 Per un annuncio Devastante È incredibile Una roba Finalmente Il cerbero Sbarcherà Su Sigla A dopo Yes Dove Eh stasera Alle 21 Alle 21 Ciao Ciao a tutti Sons Ciao a tutti Sını Mikro Grazie per la visione!